Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 352, 7 chilometri di coda tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Bologna e 3 chilometri di coda per Curiosi tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. In direzione Bologna ci sono anche 3 chilometri di coda per incidente tra il Bibio per la 11 e Barberino e in direzione Roma, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandici e Firenze Sud. Sulla FIPILI rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!